Gli orizzonti dell'identità si sono fatti molto più instabili. Non a caso i 25-30 anni oggi, dalle risposte che ci hanno dato nei questionari, rimarcano una sfiducia nel futuro. Questo viene evidenziato soprattutto dal fatto che l'instabilità lavorativa, ma anche l'instabilità nelle relazioni, è diventata più concreta per loro. Il fatto poi che ci siano i ragazzini, i preadolescenti che comunque nutrono molte speranze e molta fiducia nel futuro, in realtà segna quello che è uno spostamento nelle sfide che gli adolescenti di una decina ma anche di una ventina di anni fa affrontavano prima. Oggi invece queste sfide, queste difficoltà vengono rimandate e non a caso nel momento in cui queste sfide non sono più rimandabili, nei 25-30 anni, ecco che emerge questo senso di sfiducia e di sconfitta. Questi processi di partecipazione alle politiche ai giovanili, nella legalità e nella sicurezza, hanno come compito quello di dare maggiori strumenti alle giovani generazioni, ai preadolescenti e agli adolescenti per affrontare un futuro che oggi viene definito, come dire, instabile, flessibile, insicuro, liquido, per usare una terminologia del sociologo Bauman. Quindi, come dire, uno degli obiettivi del progetto è proprio questo, garantire a queste giovani generazioni e anche ai 25-30 anni degli strumenti per poter di nuovo recuperare un po' di fiducia nel futuro e diventare loro stessi i protagonisti della costruzione della loro identità. In un certo qual modo il non credere in se stessi e il non conoscere meglio se stessi? Certo, certo. Abbiamo rilevato anche questo, una difficoltà anche a leggere le proprie emozioni e le emozioni altrui. È anche un, come dire, un obiettivo di alfabetizzazione emotiva, se la vogliamo chiamare così, che dovrà investire soprattutto i ragazzi e i ragazzini. Utilizzando una serie di simpatici personaggi taurisanesi in stile Simpson, è stata lanciata la campagna promozionale dell'amministrazione comunale per il forum di presentazione, nel corso del quale è stata illustrata la valenza della consulta giovanile in termini di politiche giovanili, legalità e sicurezza. Un primo passo per risalire alla china.